Se stai avendo difficoltà riguardo a FIFA 25 che non riesce a connettersi ai servizi EA quindi in questo caso è possibile risolvere il problema su i computer HP quindi chi ha un portatile HP può risolvere il suo problema andando direttamente su servizi. Quindi vai direttamente su servizi scendi fino a giù fino a trovare così questo servizio qua una volta fatto ci clicchi sopra devi impostare così questo servizio come disabilitate una volta fatto devi interrompere il servizio e poi fai applica e hai così interrotto il servizio che danneggiava che bloccava così l'errore alla connessione quindi al servizio EA. Quindi adesso non ti resta che entrare nella partita e giocare a FIFA 25. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!